Ben ritrovati amici della Voce del Portico, oggi siamo con Antonio Monteleone, segreteria regionale Wiltec Emilia Romagna. Antonio benvenuto qui sulla Voce del Portico. Buongiorno, benvenuti e naturalmente facciamo l'intervista con tutte le distanze di sicurezza e tutte le precauzioni del caso. Infatti Antonio ha anticipato, vedete proprio questa distanza, proprio per consentire la possibilità di rispettare quelle che sono tutte quante le normative di sicurezza in questo momento di emergenza sanitaria, in questo momento di fase 2. Con Antonio parliamo del tema relativo per quanto riguarda la cassa integrazione, la ripartenza, questa fase 2. Antonio andiamo per gradi, direi di parlare della cassa integrazione, l'utilizzo che ne è stato fatto durante questo periodo forzato di isolamento a casa per tante persone, per tanti lavoratori e poi domande relative anche a questo ritorno al lavoro. Grazie. Bene, la cassa integrazione straordinaria che è stata prevista comunque dal governo ha fatto sì che in una fase di estrema emergenza si sia in qualche modo lenito il danno che ha dato il coronavirus alla nostra economia. Purtroppo l'utilizzo della cassa integrazione è stato massivo, tantissime aziende del territorio di Bologna hanno fatto comunque richiesta e sono dovute praticamente intervenire con questo strumento proprio per far fronte all'emergenza data dal coronavirus. Nello specifico il comparto che noi seguiamo, che è quello della chimica, gomma plastica, pelle e tessile, è stato proprio un settore a macchia di leopardo, in quanto l'utilizzo della cassa integrazione è stato più accolpito maggiormente le aziende della moda, del lusso, quindi pelle e tessile e in qualche misura minore il settore gomma plastica. Nella chimica la cassa integrazione è stata utilizzata in modo minore. Senti, per quanto riguarda l'utilizzo della cassa integrazione, avendo tu un rapporto diretto con i lavoratori, che cosa hanno pensato loro, come hanno vissuto questa situazione, sapendo di questa emergenza, sapendo che ci sarebbe stato questo stop, questo forzato in casa, qual è stata la loro reazione? Sai, la cassa integrazione è sempre un qualcosa di drammatico per il lavoratore, in quanto è vero c'è una tutela del potere ad acquisto, ma è una tutela minima, il salario diminuisce notevolmente. Purtroppo passare comunque da uno stipendio diciamo normale a un indennizzo ridotto porta sicuramente un disagio e questo disagio poi economico si riverbera in quelli che sono poi tutti i consumi giornalieri. La fortuna è che comunque in Regione Emilia Romagna il sistema bancario in qualche modo anticipa quelli che sono gli importi di cassa integrazione, quindi i lavoratori non devono aspettare le lungaggini burocratiche e i tempi a volte molto dilatati dell'Inps. Senti, il rapporto con le aziende invece come è stato il proprio parlare con loro, rivolgersi a loro, coordinarsi con loro? Il rapporto con le aziende è stato molto buono, nel senso, premetto, questa cassa integrazione non prevedeva un confronto preventivo perché è una cassa integrazione straordinaria e quindi le aziende davano a volte semplice comunicazione. Con le grandi aziende con cui noi ci confrontiamo e con cui noi collaboriamo c'è sempre stato un rapporto leale e corretto per affrontare comunque insieme una situazione emergenziale immensa. La cassa integrazione adesso siamo nella fase 2, alcune aziende, alcune attività sono ripartite però altre invece ci metteranno un po' più di tempo. Anche qui la cassa integrazione come viene utilizzata? Abbiamo avuto, parlo della provincia di Bologna, un trend generale di utilizzo della cassa integrazione in fase 1 da parte di molte aziende che adesso pian pianino stanno riprendo. Purtroppo aziende che nella fase 1 erano aperte in piena attività adesso stanno vedendo un calo dei consumi perché quasi tutta Europa è in lockdown, l'America come sappiamo è in lockdown e la Cina e l'Oriente in parte si sta praticamente ripartendo. Quindi chi prima lavorava adesso ha un rallentamento e per fortuna qualche azienda che prima era chiusa adesso stanno riprendo. L'utilizzo è l'utilizzo classico, riuscire ad affrontare comunque problemi emergenziali dando una risposta in termini di salario ai lavoratori. Antonio, ritorno alle attività fase 2, il tema della sicurezza. È un tema importante perché c'è tanto da rispettare, ci sono determinate normative che sono state applicate dalle aziende per favorire il ritorno dei lavoratori. Certo, la fase 2 per noi è in qualche modo stimolante e molto più complicata della fase 1. La fase 1 avevamo una chiusura e quindi c'era la difesa del salario e del potere d'acquisto dei lavoratori. Adesso dobbiamo parlare di sicurezza e quindi far rientrare i lavoratori nelle aziende con un grado di sicurezza molto alto. Non possiamo parlare di sicurezza totale perché comunque il rischio zero per chi lavora e per chi è del mestiere sa che in qualche modo è quasi impossibile da ottenere. Per fortuna che comunque anche in questo caso le organizzazioni sindacali nazionali hanno condiviso con il governo un protocollo per la riapertura con tutte le indicazioni per l'apertura in sicurezza delle aziende. Anche qui la stessa domanda alle aziende come si sono poste proprio nel cercare di organizzare, favorire questa sicurezza perché è comunque una situazione secondo la quale per le aziende è importante garantire questo, garantire la salute dei lavoratori per continuare la produzione. Parliamo del nostro settore. Il nostro settore è un settore che riguarda prevalentemente grandi aziende multinazionali. Parliamo del settore della chimica, parliamo del settore dell'energia, parliamo del settore gasacqua, parliamo del settore manifatturiero in generale e la sensibilità delle grandi aziende è sicuramente massima. certamente che forse zone d'ombra le possiamo vedere magari in quelle che sono piccole realtà. Mi sembra comunque in generale di vedere una grandissima responsabilità da parte dei datori di lavoro verso i propri dipendenti. Certamente ci può essere qualche discrasia tra le aspettative dei lavoratori e quello che i datori di lavoro vanno a mettere in campo. Come organizzazioni sindacali comunque vigiliamo sull'applicazione massima dei protocolli di sicurezza. C'è un punto in comune il fatto che le aziende si sono fermate e poi si deve ripartire. Alcune aziende faranno difficoltà, stanno facendo difficoltà a ripartire. Com'è anche lì la situazione? La situazione non è semplice, nel senso che un mercato fermo di tre mesi è un mercato fermo e la ripartenza è molto lenta. Qui comunque vediamo alcune difficoltà, ma il problema principale può essere il fatto che chi fino a ieri aveva comunque lavoro, quindi ordinativi, oggi ha un calo degli ordinativi perché purtroppo siamo in un mondo globalizzato e il lockdown europeo e americano certamente non favorisce una ripresa immediata delle attività. L'operato dell'Emilia Romagna si è comportata cercando di mettere in campo tutte le strumentazioni possibili, tutto l'aiuto possibile sotto questo aspetto, sul tema della Cassa Integrazione, ha investito tanto, ha messo tanto in campo il tuo pensiero? La Regione Emilia Romagna ha messo in campo tantissimo, soprattutto in termini finanziari, ma anche in termini di aiuto alle organizzazioni sindacali nell'affrontare questa emergenza. Noi come Wiltec, sia a livello regionale che a livello territoriale, abbiamo cercato di collaborare il più possibile sia con i lavoratori che con le associazioni dattoriali. Senti Antonio, guardando al futuro, guardando a questa ripartenza che sta avvenendo, siamo all'inizio della fase 2, che prospettive ci sono? Tu cosa ti immagini? Io cerco di essere fiducioso, sicuramente nei prossimi mesi ci saranno delle difficoltà, uno per eventuali rifiammate di questa epidemia, chiamiamola epidemia. Già comunque i primi studi di settore indicano un forte calo del PIL a livello nazionale, ma anche a livello regionale. Dobbiamo affrontare tutti assieme questa situazione drammatica. Una situazione drammatica, una situazione dove la Wiltec Emilia Romagna continuerà a vigilare sotto l'aspetto normativo della sicurezza e la vicinanza con i propri lavoratori. Antonio Monteleone, Wiltec Emilia Romagna, grazie mille per essere stato qui alla Voce del Portico. Grazie, ciao, buona giornata. Grazie mille Antonio Monteleone, finisce qui un'altra intervista della Voce del Portico e noi ci troviamo alla prossima.